Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video, oggi siamo qui per le pagelle di Manchester United, Everton, no, Everton, Manchester United è finita 3-0 per noi. Quindi ragazzi se mi vedete confuso se dico cose che non hanno senso è perché ho ancora la febbre, non sto benissimo però non vi volevo far mancare questo contenuto quindi sto cercando di fare questo video nel miglior modo possibile ma capite bene che non avendo le condizioni mentali e fisiche giuste potrei sbagliare più di qualcosa. Detto ciò partiamo dal portiere, anzi prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella ma soprattutto lasciate l'acca a questo video per supportare il canale. Detto ciò possiamo partire dal portiere Onana, voto 7 e mezzo, fa una partita buona, anzi più che buona, buonissima, soprattutto nel secondo tempo c'è delizia di qualche parata veramente molto bella anche alla fine del primo tempo. Ce n'è stata una in particolare che ora non mi ricordo se era alla fine del primo tempo o all'inizio del secondo tempo, comunque fa delle parate veramente molto molto belle. Grazie a lui teniamo la porta inviolata l'ennesima e niente ragazzi si sta piano piano riprendendo da quel brutto periodo iniziale dove tutti l'hanno massacrato, dove tutti ora però non parlano. Perché quando faceva le camolate tutti parlavano, adesso che sei ripreso ed è uno dei migliori Premier League nessuno dice nulla. Possiamo avanti da noi 6 e mezzo, allora gli ho dato la sufficienza per due motivi. Il primo è il cross che fa per Garnaccio, perché alla fine la palla metti in mezzo lui, quindi bisogna dargli, come vi posso dire, bisogna fargli un complimento per quel traversone che fa. Poi primo tempo orribile, secondo tempo decente, quindi ho deciso di dargli il 6 e mezzo, quindi questo voto in più, un punto in più gli ho dato per il secondo tempo decente e il traversone che porta il gol di Garnaccio. Il restante pessimo, pessimo, però ormai lo sappiamo, cioè non voglio stare qui a ripetere sempre le stesse cose su Dalò. Meglio del solito comunque, cioè diciamolo, meglio del solito. Proseguiamo con McGuire, voto 7. Lui come al solito, stessa cosa di Dalò, solo in senso positivo. Ultimamente si trova sempre pronto, fa sempre a scelta giusta, rimane sempre concentrato, riesce sempre a dare sicurezza. Cioè io adesso, in questo momento, sono sicuro, cioè quando leggo la formazione prima della partita e dico McGuire titolare, sono sicuro. Ho la certezza che McGuire faccia bene e questa è una cosa che negli ultimi mesi si era un po' levata, no? Tutti eravamo insicuri quando scendeva McGuire in campo, tutti avevamo paura. Nell'ultimo periodo questa paura si è un po' levata. Personalmente io non ce l'ho più, anche perché non è che ce ne avevo così tanta. Gli errori difensivi li facevano tutti, solo che era imputato, tutta la colpa andava a McGuire ogni volta. Però a parer mio credo che siamo un po' tutti più tranquilli con McGuire in campo adesso. Quindi McGuire voto 7, prestazione solida, Lindelof voto 6. Anche questo è il suo discorso di Dalò. Gli avrei voluto dall'insufficienza perché ha fatto veramente una prestazione da un manichino. Ormai è diventata la frase di sto canale perché è completamente assente. Un giocatore non solo nella fase di gestione ma anche nella fase infensiva. Completamente assente, un manichino immobile. Non copre, non fa le diagonali, non fa nulla. Però fa il passaggio che poi porta al cross di Dalò. Quindi gli ho voluto dare questo voto in più, questo mezzo voto in più. Perché dico, senza De Lui, quel gol non arrivava. Quindi gli ho detto diamo gli E6. Sono stato un po' troppo buono con la difesa oggi perché abbiamo vinto 3-0. Quindi ho voluto un po' alleggerire la pillola. Luxio voto 6,5. Anche lui forse meritava quel mezzo voto in meno. Meritava 6. Io ho voluto da 6,5 un po' per le condizioni fisiche. Che il giocatore era rientrato da poco, non stava benissimo, è sceso in campo, ha dato il massimo. Comunque sia la sua differenza l'ha mostrata al mondo intero. Cioè un conto quando gioca a Show, un conto quando gioca a Reguillon o chi che sia sulla fascia di sinistra. Cioè Show è proprio un altro mondo. Anche a metà, Show è mille volte meglio di Reguillon. Quindi speriamo che possa rimanere in forma intatto finché non rientra pure Malasia. Perché io Reguillon non lo voglio più vedere. Scusate ragazzi, ma se sbaglio le parole, capitevi. Ci sto capendo ben poco io. Allora, Scott, voto 7. Partita dire decente è poco per me. Sono rimasto sorpreso. Sono rimasto sorpreso dalle ultime uscite di Scott. Perché sta facendo veramente bene. E affiancato al prossimo giocatore che è me, che per me è stato il man of the match della partita, rende. Cioè nel senso Scott, affiancato a Kobe, per me rende ancora di più. Lo scozzese contro l'Everton al centrocampo ha fatto tutto quello che voleva, soprattutto nella fase offensiva. Si è permesso di salire. È riuscito ad imbucarsi qualche volta entro l'area di rigore. Non è stato servito quando poteva essere servito. Un giocatore che aiuta nella fase interdizione. Non sta né troppo arretrato, né troppo in avanti. Cioè sta in mezzo. In mezzo. Fa la dica. Tra attacco e difesa. Ed è questo il ruolo che ci ha Scott, anche con la Scozia. Cioè spinge, spinge. Qualche volta si mette in mezzo per bloccare le ripartenze degli avversari. Ma non è che sta davanti a difesa, fisso, a coprire. E quando gioca quindi in una posizione un po' più libera, chiamiamola così, no? Un po' più da fantasista, rende molto di più. Per quanto non sia un giocatore tecnico. Però rende molto di più. E questa cosa la dobbiamo proprio... Cioè la prestazione di Scott la dobbiamo... Ah, mai no. Che praticamente prende sulle spalle tutto il centrocampo e lo United. Soprattutto nella fase di sviluppo. E crea un colosso. Da veramente... Io ero da veramente tantissime settimane, se non mesi. Che non vedevo lo United costruire con così tanta leggerezza davanti alla difesa. Cioè noi ultimamente abbiamo visto uno United che buttava la palla su. Anche con Onana si cercava poco la costruzione dal basso, più la costruzione a palla lunga. Infatti in tanti si domandavano ma perché abbiamo preso Onana? Con l'Everton si è visto perché abbiamo preso Onana. Con l'Everton si è visto perché lo United ha voluto tenere Scott. Con l'Everton si è visto perché lo United ha voluto tenere Dalot. Cioè Kobe Maino è stata la chiave... La chiave... De un lucchetto che non si apriva. Quest'anno soprattutto. L'anno scorso grazie a Casemiro, ad Eriksen che era appena entrato, che voleva dimostrare. Quindi aveva tanto tanto fiato, tanta voglia. Non aveva ancora subito l'infortunio grave che poi ha subito a metà stagione dell'anno scorso. Con Fred che ti dava fiato eccetera eccetera. Con pochi infortunati qualche cosa avevamo visto al centrocampo. Ma con l'Everton la scorsa partita, proprio se vista la differenza, è una squadra che siamo riusciti proprio a costruire, a liberarci della pressione avversaria con estrema, e dico estrema, facilità. E quest'anno non è scontato. Non è assolutamente scontato. E questo ragazzo è stata la chiave. Come ho detto prima, è stata la chiave di questa costruzione. Di questo, spero, nuovo inizio. Perché adesso si sta parlando di un Kobe Maino titolare pure con il Galatasaray. Io mi auguro che ciò accada, perché Kobe Maino in questo momento, sulla mediana, è il centrocampista più tecnico che abbiamo. Poi, questi discorsi oggi l'ho fatto. Io non paragono Kobe Maino a Casemiro e non paragono Kobe Maino a Eriksen o a Scott o chi che sia. Sono giocatori ancora tutti superiori a Kobe Maino. Casemiro tra tutti. Ma non hanno la tecnica che a Kobe balla al piede. Questa è la differenza. Eriksen ha la stessa tecnica. Il problema, cioè la qualità è quella, il problema di Eriksen è l'età. Che lo porta ad essere lento, macchinoso e qualche volta brutto da vedere quando va a gestire il pallone. Kobe gioca con la leggerezza di un 18enne, ma con l'esperienza di un 30enne. Perché veramente sembra che c'ha 30 anni sto ragazzo, non ce n'ha 18, 19. Andiamo avanti. Rashford, voto 6. Eh, gli ho dato 6 per il carcerione. Raga, questa era da 5. Cioè, a di la verità per me era da 4. Poi ho detto, dai, mettiamogli 5. Che dico, ha segnato il rigore. Poi ho detto, no, se gli do 5, dopo mi rompo le scatole. Perché dicono, eh vabbè, ma Iarno ha segnato. E quindi diamogli 6. Perché è anche giusto così. Perché quando uno segna, è giusto che l'insufficienza non la deve prendere. È brutto anche. Cioè, l'insufficienza poi brutta non è neanche giusto. Il 6 se lo prende. Spero che questo rigore siglato lo possa aiutare a ritornare quello di prima. Ma se parliamo della prestazione nei 90 minuti, raga, era da 4. Raga, un giocatore che ha perso una marea di palloni, non difficile, o viene servito male. Lo sapete che quando i giocatori allo United lì davanti vengono serviti male. Io sono il primo a dirlo. Vieni servito male, allora lo giustifichi. Ma quando tu vieni servito bene, o hai il tempo per decidere cosa fai, e fai sempre la scelta sbagliata, bene, allora lì la colpa va soprattutto a te. Rashford in questo momento, quando ha due scelte da prendere, A o B, sbaglia. Se deve scegliere A, doveva scegliere B. Se sceglie B, doveva scegliere A. Cioè, letteralmente non gliene va dritta una, ma soprattutto è proprio lui che non se ne fa dritta mezza. Perché quando deve passare, prova il dribbling, quando deve tirare la passa, cioè fa tutto completamente sballato, sembra un giocatore proprio fuori dagli schemi. Quindi per ora, l'ho detto anche nel post-partita, è inutile. L'ho voluto da sei solo per un sostegno morale e psicologico. Ma non sti pacelli, non è che le guarderà, quindi potevo anche dargli due. Non è che cambiava qualcosa. Bruno, voto sei e mezzo, vedevo dire. Partita sottovalutata di Bruno Fernandes. Sì, ok, fa l'assist che chiude la partita. Però partita sottovalutata perché quando è finito il match, tutti hanno parlato di Carnaggio, tutti hanno parlato di Maino, che per me, ripeto, rimane l'MVP. Tutti hanno parlato di Onana. Ma se voi andate a rivedere la partita e andate soprattutto a rivedere, o andate a guardare, se non avete visto, le statistiche, i passaggi realizzati, la heat map di Bruno, eccetera, eccetera. Se voi andate proprio ad informare della prestazione, di quello che ha fatto con l'Everton, ragazzi, veramente tanta roba, tanto sacrificio, tanta volontà, tanta grinta, un giocatore che ultimamente viene sottovalutato per le prestazioni che ha. Poi a livello statistico parliamo sempre le stesse cose, che vi piace oppure no, è un giocatore che fa un assist, un gol. C'ha una media quest'anno che è impressionante. Mo' che sei rotto di Bruin, non lo prende nessuno. Cioè, nel senso, l'unico che poteva a livello numerico fregare Bruno, come sappiamo tutti, è Kevin De Bruin. Ma ora che Kevin De Bruin è in box per un problema fisico, speriamo si possa riprendere in prima possibile, perché nessuno merita quello che ha subito Kevin De Bruin, al momento, a livello numerico parliamo, statistiche, non c'è un giocatore che riesce a raggiungere quei numeri lì, in quella zona del campo. Quindi, Bruno Fernandes, voto 6 e mezzo, forse meritava anche un bellino di più, però non volevo esagerare. Garnaccio, voto 7, attiva la verità, quella rovesciata gli vale un voto e mezzo in più, ma forse anche di più. Cioè, la prestazione di Garnaccio, alla fine, nei 90 minuti, io credo che lui si sia anche scaricato. Cioè, lui ha fatto quel gol che non ci ha creduto nemmeno lui, cioè, per me l'ha realizzato a fine partita, il gol che ha fatto. E lui, nei 90 minuti, negli 89 minuti seguenti dopo il gol, perché, più o meno, il gol è arrivato dopo 2-3 minuti, se non sbaglio, adesso con la febbre, può essere pure che me confondo qualche numero. Comunque, subito dopo il gol, per me, lui, è rimasto sbalordito da quello che ha fatto, sorpreso, non ha realizzato, è rimasto incosciente per tutta la partita. Perché poi, se spendo come un fiammifero, cioè, se spendo neanche piano piano, se spendo subito, è sparito completamente dal gioco, non ha toccato e strisciato più un pallone, capisco, cioè, giustifico, lo sapete come si è fatto. Cioè, uno che è così giovane, realizza un gol del genere, c'è sta che tu stai lì, c'è un mio Dio. Questo c'è la strada spianata, cioè, ogni cosa che fa, gli va bene, la fa e la fa bene. Uno non può di manco, c'ha fortuna, perché quella non può essere chiamata fortuna. Uno che si corti, cioè, fa un gesto tecnico del genere, non è fortuna. Uno può dire, oh, fa la rovesciata, chiappa sullo stingo, la chiappa male e gli va dentro. Cioè, lui proprio l'ha cercata, lui ha visto la balla che gli è arrivata e si è coordinato e l'ha colpita proprio lì, nel modo giusto. C'è un giocatore che, a parer mio, se porta la testa, e questo è un punto veramente molto importante, soprattutto su Garnaccio, perché ragazzi, lo sapete, che a me piace tantissimo, ma la testa è una cosa importantissima e non capiremo mai se questo ragazzo ce l'ha o non ce l'ha, come non l'avevamo capito con Greenwood, come non l'abbiamo mai capito con Rashford e non lo stiamo capendo, perché mica si sa, cioè, non si capisce se Rashford è un giocatore con la testa, professionale, passa da periodi di Tossalina, si abbassa, corre destra, sinistra, a momenti dove pare che non gliene frega niente, quindi letteralmente io spero che questo ragazzo abbia la testa, perché non dico che può raggiungere i livelli di Ronaldo e Messi, mai, non so, quel tifoso esaltato, può però, non so se si dice, però credo che sì, però può raggiungere un ottimo livello, cioè, io sono d'accordo con Tenag, Garnaccio può raggiungere i 20-25 gol stagionali, perché ha le caratteristiche tecniche per raggiungere quei livelli, le ha, e io qui non è che sto a dire perché è argentino, perché fa Neronaldo, perché fa il Sium, perché è bello, perché è un ragazzino, non è per quello, proprio per come è predisposto a fare le cose, cioè, se vede proprio che è nato, c'ha la fortuna, c'ha la strada che lo sta spingendo verso quella direzione lì, poi tecnicamente si vede che c'ha quelle caratteristiche, poi, come ho detto prima, ci stanno tanti fattori, primo tra tutti la testa, perché questo può avere un potenziale clamoroso, ma la testa fa tanto, e l'esempio più lampante è quello che arriva dopo Garnaccio, che è Martial, voto 7, Martial è il perfetto esempio di quello che non deve fare Garnaccio, cioè, Martial è un giocatore che quando è in giornata, e adesso poi lo vediamo che è diventato di un giocatore maturo a livello d'età, quindi ha anche un po' più di esperienze, molta più esperienza di Garnaccio, riesce sempre a fare la differenza, fa delle giocate, quando è in giornata, quando gliene va, fa delle giocate da top player, cioè, pallonetto a Pickford, ma anche le spunte che lui fa, il modo in cui si gira, il modo in cui manda a sedere gli avversari, cioè, tutte situazioni che un giocatore normale, di fascia media, non riesce a fare, Martial è un giocatore di fascia alta, a me non me ne frega se uno mi dice, hanno seno incompetente, se pensi che Martial era un top, potete diventare un top player, per me sì, per me Martial era un futuro pallone d'oro, e ne sono tuttora convinto, poteva stare lì, vicino a Ronaldo e Messi, perché ho visto cose fare, cioè, ho visto, fa cosa Martial è clamorosa col Monaco, ho visto fa cose clamorose all'inizio con lo United, poi si è spendo, ma non è che si è spendo perché non c'aveva il talento, si è spendo perché la testa non c'è stata, la professionalità, i giornalisti che l'hanno gonfiato troppo, e lo è scoppiato come un palloncino, quindi, di per sé, io spero che Garnaccio abbia una testa più professionale da quegli altri due, perché pure per me Rashford la testa non è che ne porta tanto, Martial comunque voto 7, prestazione buona, ottime spunte, ottime giocate, bel gol, mi è piaciuto, Martial mi è piaciuto, non vedo l'ora di vederlo contro il Galatasaray in Turchia, non vedo l'ora, perché io sono convinto al 100% che se è in giornata, Martial, te cambia la partita in Turchia, te la cambia, se è in giornata, se gliene va, se non gliene va, sei finito, ma se gliene va, metti in banchina Oilun, metti in banchina Rashford, metti in banchina Garnaccio, metti in banchina, chiunque sta lì davanti, se gliene va, se non gliene va, possiamo stare qui a giocare a briscola, gli andava con l'Everton, perché l'Everton è la squadra che lui ha burgato di più, e quindi gli andava di fare la differenza, vediamo se in Turchia capace, gli piace il clima, il freddo, non lo so, qualcosa gli dovrà piacere, speriamo, che ne so, l'erba, e quindi si ingrifa e cerca di fare di più del solito, non lo so, vediamo, speriamo, andiamo avanti adesso con Ambravat, voto 6, qui ragazzi a banchina c'ho veramente poco da dire, perché Ambravat 6 entra, fa il suo, Facundo entra e porta il gol del Marziale, quindi voto 7, clamoroso, Wambisaka entra e fa il suo, voto 6, Tenag voto 7, avrei potuto mettere anche 7,5,8, ma non l'ho fatto perché Tenag alla fine era fuori, cioè stava solo i spalti, non poteva stare in banchina, quindi, sì ok che portava la cuffietta, lui praticamente parlava all'assistente, ha deciso tutto lui, però, gli voglio da 7 per dei meriti anche a chi stava lì al posto suo, però in generale, raga, ha gestita bene la partita all'allenatore olandese, mette in campo un 11 che credo che ormai sia diventato, spero, quello titolare con ovviamente Oilund che va ad entrare in Turchia o quando è titolare come Lissandro parlo anche dei Paran non lo so, io questo non lo so, perché Eriksen è un giocatore che per me deve subentrare, Casemiro bisogna parlarne, ne parleremo in questi giorni, perché Casemiro è un gran bel punto di domanda, perché in questo momento non so per quale motivo è stato preso se Tenag cercava altre caratteristiche io mi chiedo tuttora che poi non ero neanche tanto convinto, ma se lo United due anni fa, cioè il primo anno dei Tenag nel primo mercato riusciva a prendere De Jong di che squadra stavamo parlando, cioè cosa succedeva, cioè cosa eravamo riusciti a vincere, dove stavamo adesso, perché cioè io con Kobe che è Kobe ho visto un cambiamento radicale della costruzione del gioco, con un nome De Jong che per me in questo momento nel calcio moderno è il capostipite del mediano che costruisce, non mi dispiace per chi è fan ma Rodri, Rice, questi sono non è per cattiveria ma questi sono proprio i lasci delle scarpe De Jong cioè De Jong è proprio il centrocampista che è nato per giocare quel gioco dove lui prende palla te supera l'uomo te crea la superiorità numerica esce dalla pressione cioè io mi chiedo un giocatore del genere in mezzo al campo invece Casemiro dove stavamo? è ovvio che adesso uno può dire e vabbè ma Casemiro ha segnato in finale di Carabeo Cup è vero ma Casemiro è stato fondamentale ma uno non esclude l'altro cioè se tu credi veramente nel progetto e credi veramente nell'allenatore avresti investito per entrambi ti saresti portato a casa entrambi i giocatori per dare manforte ad un centrocampo che negli ultimi 5-6 anni a Manchester ha fatto riprezzo invece no si è preso uno preferendo il nome il cognome quello che è all'altro quando l'altro serviva di più a livello di progetto quindi adesso che succede? che De Jong è rimasto là e non si sposterà più perché quel ragazzo ama quel posto lì ama la Spagna ama il Barcellona ama Xavi perché gli ha fatto anche vedere un progetto sensato che io sono convinto che se tu andavi da De Jong e gli mostravi un progetto sensato ti dicevate sì soprattutto st'estate essendo che stai in Champions però hai preferito fare questo cioè hai preferito prendo adesso un giocatore che ha più di 30 anni ha uno stipendio enorme e se fatto male non dico male tanto cioè non ha assumito un infortunio gravissimo ma ha assumito un infortunio importante e sarà difficile cioè per lo più tornerà ai livelli della passata stagione perché la passata stagione è stata clamorosa la passata stagione di Casemiro è stata top non ha le caratteristiche De Jong ma è un giocatore che ti resta sempre utile ma torna c'ha un'età c'ha uno stipendio grosso sappiamo no come funziona in sti casi ci stanno pochi di Ronaldo cioè quelli che di Ibrahimovic quelli che a una certa età se fanno male ma continuano a reggere e mantenere quel livello lì io ho paura ve lo dico ma ne parleremo ne parleremo nei prossimi video io vi saluto vi ringrazio per la visione e alla prossima gente vi ringrazio per la visione